Senti, ad oggi, Dani Lazzarini, quali sono le fonti d'entrata? Magari qualcosa non conosciamo, è segreto, non lo so? Allora, a me, io e tu lo sai, perché ci siamo conosciuti anche nella vita privata in questi giorni prima di vederci, amo distinguere quello che è social da vita privata e pubblico solo quello che voglio che si sappia. Lo stesso vale per le attività. C'è qualche attività? Non voglio che tu si sappia, però il pubblico... Sì, ma non perché ci siano segreti o altro, ma come per la vita privata, non è una cosa che mi interessa comunicare, di cui non ho assolutamente intenzione di farlo, di muovermi su quel fronte lì. E invece le entrate, quelle che conosciamo, sono YouTube, AdSense, immagino che comunque con un milione di passati iscritti c'è una bella entrata. Io sono sempre super schietto e chiedo, poi sta all'ospite decidere se rispondere o no. Più o meno AdSense, un canale da un milione di passati iscritti come il tuo? Il mio non performa tanto. Perché quello va a seconda della nicchia di riferimento. Sì, sì, sì. Per dire ti dico una cosa che in pochi sanno, nonostante il canale di Thomas sia più piccolo del mio, performa meglio. Non so se potevo dirlo Thomas, ma sì. Ormai è andato. Poi abbiamo la tua società di consulenza e lì più o meno so che fatturati siamo a lui. Io lo chiedo. No, e fai... Vorrei non farlo, ma sai perché? Non perché ci siano segreti, perché comunque i bilanci vengono depositati. Ma perché in questo ultimo periodo vedo tanto focus sulla questione guadagni, sulla questione fatturato. E agli occhi degli spettatori questa cosa viene fraintesa. Perché se siamo solo tra di noi, dopo possiamo parlarne, tra persone che fanno business, può avere un suo senso e chi mi ascolta riesce a percepire il significato delle parole che mi escono. Ma oggigiorno agli occhi degli spettatori, quando si comincia a parlare di fatturato, i ragazzi cominciano a dire quello che guadagnano, la cosa non viene percepita nel modo corretto. E cosa succede? Succede che a qualificare la tua persona sono i tuoi introiti. Ed è una cosa che secondo me non va affatto bene. Perché il fatto che magari Luigino guadagni 10 milioni di euro all'anno vendendo biciclette, non sta a significare che sia una persona più valevole magari di un chirurgo spinale che non ne guadagna neanche il 10%. Quindi attenzione, a dare valore alla tua persona non è quello che guadagni, ma è quello che fai. Ok? Quindi cominciamo a mettere il focus sui facta, no verba. Ok? Quindi quando noi cominciamo a dire chi sei tu, cosa vali davvero? Io non lo voglio quantificare in base a quello che guadagni a fine anno, lo voglio quantificare in base a quello che fai. Ok? Questo è importante perché possiamo riempirci tutti la bocca dicendo fatturo questo, fatturo quello, guadagno tanto, mi compro un sacco di cose. Ma questo non sta a significare che io sono una persona valevole. Io voglio essere visto e voglio essere giudicato da chi mi guarda per quello che faccio, non per quanto guadagno. Certo. No, no, ma la mia domanda non era assolutamente per dare un valore alla persona. No, no, ma io lo so, infatti ho detto, dopo possiamo parlarne. Il problema è che gli ospettatori dicono... Ah, vuol trasmettere questo. Era una mia curiosità per capire... Molte volte hai capito... Ah, Luigi guadagna tanto più di Mario. Ah, eh. Ma cosa vuol dire? Attenzione, non vuol dire niente. Ok? E non vuol dire neanche che c'è una capacità migliore. Sono scelte diverse. Semplicemente perché chi ha dato la sua vita per un obiettivo, senza curarsi di quello che può essere il guadagno, lo ha reso molto più felice rispetto magari ad inseguire, ok, quella chimera, quella cosa così amata da tutti che però è così volubile, è così poco tangibile come il guadagno, ok? Una persona che dedica la sua vita allo studio e all'insegnamento non riuscirà mai a monetizzare così tanto come magari un abile imprenditore. Ma ciò non sta a significare che la sua figura sia meno valevole all'interno della società. Verissimo, verissimo. È il percorso quello che fa di una persona. È quello che lasci agli altri. È quello che lasci agli altri. Attenzione, e molti imprenditori di successo lasciano anche tanto, eh. Sì, sì. Attenzione. Perché crea i posti di lavoro, lasci... Questi sono i fatti che mi piacciono, ok? La tua azienda cosa ha permesso di fare oltre che ad arricchirti? La mia azienda... Di arricchire. No, no, ma di arricchirti. Adesso perché tu hai orologi di lusso, hai le belle macchine, ma in soldoni cosa succede? Cosa succede? Succede che tanti ragazzi fanno il lavoro che hanno sempre sognato. Succede che la mattina un ragazzo che ha studiato un'intera vita all'università e che è stato sulle spalle dei genitori per un'intera vita, ora li potrà ripagare facendo quello per cui ha studiato, facendo quello che ha sempre sognato di fare. Questo è quello che fa la differenza, ok? Questi sono i fatti che parlano più del fatturato. Ed è importante che ci concentriamo anche su quello che viene lasciato, su quello che viene fatto nella concretezza. Grazie.